Regali di Natale o comunque acquisti online che non sarebbero mai arrivati a destinazione se non fosse stato per la polizia stradale che nelle scorse ore ha colto sul fatto due stranieri mentre stavano rubando numerosi pacchi Amazon con la complicità del corriere. Tutto è successo intorno alle 9 del mattino. La pattuglia della sottosezione di Battifolle si trovava lungo l'autostrada del Sole all'interno dell'area di sosta Crocina poco prima del casello di Arezzo in direzione sud. Gli agenti si sono subito recati verso la zona più appartata dell'area di sosta dove avevano individuato un autotreno e un'auto con due persone indaffarate a traslocare le scatole da un mezzo all'altro. Alla vista dei poliziotti due sono scappati in direzioni diverse ma sono stati bloccati e arrestati. Il malloppo, principalmente apparecchiature e i-tech, ha un valore di circa 4.000 euro. Appena due giorni prima sempre gli agenti della sottosezione di Battifolle avevano denunciato altri due stranieri per ricettazione trovati in possesso di merce sempre proveniente da Amazon rubata con le stesse modalità per un valore complessivo di 30.000 euro.